chiarezza quando sono al massimo c'è un bel basso questo e il volume o l'altoparlante è abbastanza buono si sente benissimo ma arrivando al massimo del volume è come se l'altoparlante viene forzato forse non si può giocare e vedere video allo stesso tempo ma facciamo finta di magari vedere vedete che non si è chiuso l'applicazione ha continuato in background quindi mentre magari stiamo guardando un film o un video su youtube possiamo anche guardarci e studiare qua sopra cercare altre applicazioni guardando oh oh quindi si può basta impostare bene la modalità del multitasking vedete anche anche la musica può posso portare due applicazioni abbastanza fluido questo telefono anzi molto molto fluido come sia il tatto dello schermo che come fluidità del hardware vedete vedete è molto veloce non ci sono lag come normalmente avviene nei telefoni a basso costo adesso vedete vedete si può usare due applicazioni pesanti insieme o nello stesso tempo andiamo a vedere andiamo a vedere l'applicazione postazioni e poi poi telefono about phone già android 9 molto 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 bello questo telefono proviamo a vedere proviamo a vedere la fotocamera davanti va comunque sia questo questo video è pensato proprio per avere una una recensione un tipo di recensione unboxing molto 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 onesto senza pubblicità o senza favorire il venditore o il telefono stesso quindi questo era stata una recensione molto molto onesto e primo uso del telefono come avete visto il telefono è molto molto bello è fluido e funziona molto bene abbiamo vediamo quanta memoria questo comunque come possiamo vedere qua nelle impostazioni c'è 4 giga di ram 4 giga di ram vedete ma questo ci sono diversi variazioni di questo telefono potete comprarlo con 6 giga di ram 120 128 giga di memoria questo comunque c'è solo 64 qua è circa 52 perché alcuna altra memoria viene usata dal sistema stesso scusate il mio italiano accento e la non formalità di questo video finiamo qua questo video vi ringrazio per aver guardato questo video e per favore date supporto al nostro canale iscrivendovi iscrivetevi e mettete mi piace ai video che mettiamo arriveranno molti molti video migliori con dei contenuti molto molto migliori appena avremo più tempo a farli quindi grazie mille ragazzi buona serata buongiorno e una bracione e un abbraccio e un abbraccio e un abbraccio è un abbraccio e un abbraccio Grazie a tutti.